Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto categorie Swarovski Element SBIADS 5535. Brillante in assoluto. Il nuovo Xylion B e A di la prima perlina Xylion con il taglio brevettato Xylion della Swarovski convince con una brillantezza eccezionale e garantisce un'impressione affascinante. La nuova perlina XLLION B e A è disponibile in una grande varietà di colori ed effetti. Con la nuova perlina Xylion la Swarovski non sola estende la sua gamma, ma allargandola di nuovi ad altissima e indiscutibile qualità. Una grande varietà di perline Xylion B e A, 126 colori possono essere combinati con 20 effetti una scelta multiforme inclusa il più piccolo bicono del mondo da sempre attenta ai nuovi trend e in linea con le esigenze della moda e del mercato saranno introdotti nuove forme, colori ed effetti. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione.